Il Bayern Monaco perde un grande giocatore per la Juventus. Ciao! Prima di continuare, iscriviti per non perdere le prossime novità. In mezzo a una serie di sfide nella stagione, la Juve intensifica la sua ricerca di rinforzi. La dirigenza cerca di rafforzare il reparto offensivo e sta puntando su un giocatore che ha guadagnato grande risalto negli ultimi anni nel calcio europeo. Maxim Koupo-Moting è emerso come una figura prominente nel mondo del calcio, guadagnando notorietà per le sue prestazioni consistenti e incisive al PSG. Ora, al Bayern Monaco, il camerunese potrebbe lasciare la Germania per l'Italia. L'attaccante camerunese ha un contratto con il Bayern Monaco fino alla fine di questa stagione. Il Bayern Monaco sta affrontando una delle sue peggiori stagioni nella storia del club e, quindi, vogliono rinnovare la rosa, lasciando partire nomi importanti, come nel caso di Koupo-Moting. Koupo-Moting, in estate, dovrebbe firmare con una nuova squadra e in Italia la Juventus è il principale interessato al camerunese che, in questa stagione, ha disputato 26 partite, segnato 3 gol e fornito un assist. Koupo-Moting è un centravanti, ma gioca anche come secondo attaccante. Nonostante il camerunese abbia guadagnato notorietà negli ultimi anni, secondo me, a causa dell'età, la Juventus non dovrebbe portarlo.